e ai morti, perché sono tutti da risarcire, perché tutti hanno servito questi disgraziati signori. Questa è la verità caro. Noi si prepariamo per questo, pure perché oggi i militari, manco in Sardegna, perché devono venire tutti gli eserciti europei a rompere i coglioni in Sardegna e a esercitarsi? Perché devono venire tutti qua? Perché non si esercitano nelle loro nazioni. Insomma, questa è facile, non è una cosa facile, perché la Sardegna è stata venduta dei signori cornuti e non è che mi vergogni, io vado a un Parlamento e gli dico quello che devo dire pure in Parlamento. Grazie, ciao.